E dunque è finalmente arrivato il momento di parlarvi di quella che è stata la mia prova sul campo dello Snapdragon X Elite di Qualcomm di fatto il processore più atteso nel panorama dei computer perché chiaramente con questo processore si attende finalmente un salto di qualità di Windows on ARM Ho avuto modo di provarlo su di lui il Lenovo Yoga Slim 7X, uno dei primissimi computer PC Copilot Plus arrivati sul mercato Ora dedicherò a questo dispositivo un video a sé stante, quindi questa non è la recensione del computer Lenovo che peraltro sto recensando per quelli della sera per cui quando pubblicherò il video avrete linkato in descrizione anche la mia recensione scritta ma questo video voglio utilizzarlo per raccontarvi un po' quello che dal mio punto di vista deve essere l'approccio nel giudizio di questi PC Copilot Plus perché ho visto anche rispetto alle recensioni americane ma anche le recensioni di tanti colleghi italiani soffermarsi molto sulla questione dell'intelligenza artificiale generativa che certamente è un aspetto importante di questi computer ma secondo me tralasciando un po' troppo quello che è stato il lavoro svolto da Microsoft in collaborazione con Qualcomm per consentire finalmente a Windows on ARM di compiere quel salto di qualità che aspettiamo da tanto tempo e dunque non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo Partiamo innanzitutto dal discorso legato all'intelligenza artificiale generativa perché è chiaro che insomma parlando di PC Copilot Plus ci si aspettava un certo tipo di integrazione da parte dell'intelligenza artificiale e devo dire che così non è quindi rispetto a quest'ambito le critiche mosse a Microsoft sono secondo me assolutamente concrete, reali assolutamente giustificate e giustificabili perché allo stato attuale di fatto buona parte delle funzioni legate a questa maggiore implementazione di Copilot nel sistema operativo di fatto non sono disponibili, magari non funzionano adeguatamente e in più ci sono anche tutta una serie di limitazioni legate alla lingua italiana e qui voglio farvi davvero un paio di esempi concreti pensiamo per esempio a Paint, la famosa applicazione di disegno di Windows bene, nei PC Copilot Plus c'è la possibilità di sfruttare l'integrazione di Copilot anche all'interno di Paint per cui almeno sulla carta io dovrei poter disegnare ad esempio un fiore e richiedere poi automaticamente a Copilot la creazione di un'immagine di un fiore che in qualche modo va a stilizzare quello che è stato il fiore che io ho disegnato magari a mano libera una funzione potenzialmente molto utile pensiamo chiaramente all'ambito grafico a chi magari lavora sui social come social media manager e ha bisogno di creare un'illustrazione al volo peccato però che oggi questo passaggio automatico di fatto non funzioni mai e si sia costretti a dare un prompt a Copilot scritto e quindi dirgli proprio apertamente esplicitamente di restituirci di elaborare un'immagine che in qualche modo rappresenti un fiore ma questo è uno dei tanti esempi di come purtroppo ad oggi l'integrazione di Copilot sia un po' un epic fail da parte di Microsoft o meglio più che un epic fail sia ancora assolutamente acerba, non pronta evidentemente ci sono tante cose da sistemare probabilmente anche tutta una serie di limitazioni legate alla privacy rispetto alla normativa dell'Unione Europea con cui Microsoft dovrà evidentemente avere a che fare per portare poi sul mercato definitivamente queste funzionalità da questo punto di vista manca Recall che è una delle funzioni più attese dei Copilot Plus PC che è appunto questa sorta di time machine che dovrebbe consentire di richiamare tutte le operazioni che nel corso del tempo sono state svolte sul computer Windows ma sappiamo che poi Microsoft l'ha un attimo messa in stand by proprio per delle criticità legate alla privacy e quindi al tema del trattamento dei dati personali ma potrei raccontarvi di Copilot anche rispetto all'integrazione nella webcam peraltro questo computer di nuovo ha una bellissima webcam Full HD con tanto di supporto a Windows Hello ma ripeto ve ne parlerò nella recensione completa beh anche lì abbiamo una serie di effetti che possiamo sfruttare grazie alla presenza dell'intelligenza artificiale generativa e quindi sfocare lo sfondo in live insomma avere tutta una serie di possibilità che per carità funzionano sono certamente carine ma non cambiano quello che è lo status quo di utilizzo quotidiano del computer peraltro anche rispetto a queste funzioni c'è per esempio la funzione prompter che dovrebbe permettere quando siamo in video call di mostrarci sempre con gli occhi rivolti alla videocamera anche se magari nel frattempo stiamo scrivendo e quindi stiamo guardando altrove anche qui sulla carta una bellissima idea ma posso dirvi che poi nell'utilizzo quotidiano di fatto non funziona e molto spesso si va a perdere anche il fuoco dell'immagine per cui davvero oggi l'intelligenza artificiale generativa rispetto all'integrazione con Copilot personalmente la ritengo non valutabile è ancora troppo presto ed evidentemente Microsoft ha voluto correre un po' anche rispetto a quelli che sono stati gli annunci di Apple e Apple a sua volta ha corso perché anche Apple Intelligence evidentemente ci vorrà ancora tempo per poterla vedere pienamente operativa insomma è evidente che ci si sia lanciati un po' tutti in questa corsa all'intelligenza artificiale generativa che oggi è come dire un elemento marketing molto potente però c'è ancora tanto tanto lavoro da fare per cui allo stato attuale certamente i PC Copilot Plus non possono essere acquistati nella logica di dire ok lo compro perché ho quelle funzioni di intelligenza artificiale perché davvero in molti casi non funzionano e quando funzionano funzionano in maniera molto acerba la questione cambia diametralmente quando parliamo invece dello Snapdragon X Elite ora vi preannuncio non vi racconterò in questo video dati particolarmente tecnici temperature e tutte queste robe qui perché insomma riserverò questa parte alla recensione del computer Lenovo però volevo raccontarvi quello che secondo me è stato molto tralasciato molto messo in ombra dalla debacle dell'intelligenza artificiale ma che in realtà rappresenta un punto essenziale di questi PC Copilot Plus cioè l'architettura ARM nel 99% dei casi è questo processore Snapdragon X Elite che già dai primi benchmark durante la presentazione di Qualcomm ormai diversi mesi fa aveva mostrato delle potenzialità veramente enormi e devo dire che le potenzialità ci sono tutte con una grande come dire più che incognita diciamo con una grande variabile vale a dire il fatto che dall'altra parte il software mette a disposizione dell'hardware un come dire un ambiente realmente ottimizzato per l'architettura ARM e mi spiego nel dettaglio perché qui c'è peraltro un piccolo paradosso che coinvolge proprio il notebook Lenovo il notebook Lenovo questo Yoga Slim 7X viene venduto con due mesi di abbonamento inclusi ad Adobe Creative Cloud quindi la suite cloud di Adobe che permette di scaricare ad esempio programmi come Photoshop Adobe Premiere, Lightroom dove sta il paradosso? il paradosso sta nel fatto che per esempio Photoshop si riesce ad installare Adobe Premiere Pro non si riesce ad installare perché viene fuori un alert di dispositivo non compatibile per cui evidentemente nel caso di Premiere Pro l'emulatore non funziona adeguatamente però ecco anche nel caso di Photoshop stiamo parlando di programmi in questo momento ancora emulati quindi non scritti ad hoc per l'architettura ARM cosa che invece accadrà nel corso dei mesi perché in autunno tutta la suite Adobe dovrebbe arrivare nativa per l'architettura ARM ora allo stato attuale però è chiaro che quando andiamo ad utilizzare Photoshop che comunque funziona bene grazie all'emulatore e non c'è da fare nulla nel senso l'emulatore è preinstallato in Windows quando c'è da farlo partire se la vede il sistema quindi noi non dobbiamo far nulla semplicemente installare il programma però insomma quando utilizziamo Photoshop è chiaro che lo Snapdragon X Elite ha davvero tantissima potenza e quindi riesce a gestirlo anche con l'emulazione però è ovvio che non abbiamo quello sprint in termini di prestazione pura soprattutto quando diamo in passo a Photoshop dei file particolarmente elaborati o stiamo facendo un fotoritocco particolarmente elaborato insomma in quegli ambiti non è strano vedere qualche piccolo ralentamento o meglio non è come dire raro vedere qualche piccolo ralentamento e qualche incertezza cosa che invece cambia diametralmente quando abbiamo dei programmi che sono scritti ad hoc per l'architettura ARM e qui pensiamo per esempio ai browser ad esempio Google Chrome Google Chrome che sappiamo a livello di ottimizzazione è solitamente un disastro consuma una quantità abnorme di RAM eppure nonostante questo proprio perché è stato riscritto ad hoc da Google con una versione per l'architettura ARM Google Chrome vola letteralmente io difficilmente ho visto una fluidità nella navigazione tramite browser web che non è un'operazione banale perché molto spesso ci si trova ad avere davvero aperte decine se non centinaia di schede del browser e quando si parla di schede di Google Chrome sono schede belle e pesanti insomma non ho mai visto un computer Windows gestire tutto in maniera così fluida come ho visto fare a Lenovo e come ho visto fare allo Snapdragon X Elite peraltro con un thermal throttling praticamente assente cioè in queste operazioni con i programmi scritti ad hoc per ARM di fatto non si percepisce mai calore dalla scocca e questo non è un dettaglio non da poco e non è un dettaglio non da poco anche il fatto che l'approccio ARM quindi l'approccio del system monichip tutto all'interno del processore ha permesso per esempio di implementare in un computer leggero come lo Yoga Slim 7X ben 32 GB di RAM nella versione top e anche qui fino diciamo quando questi computer questi Ultrabook erano basati sull'architettura X86 era molto difficile avere configurazioni con 32 GB di RAM qui abbiamo un computer con 1,29 cm di spessore è appena 1,28 kg di peso quindi davvero un peso più ma comodissimo da portare con sé quindi insomma complessivamente il punto qual è lo Snapdragon X Elite mi ha assolutamente convinto ha tantissima potenza da vendere davvero e quando viene messo nelle condizioni dal software di poter esprimere davvero il suo potenziale si intravedono si intravedono a piattaforma hardware che davvero può impensierire i processori della serie M di Apple il punto è che Microsoft rispetto a Apple è ancora in ritardo rispetto a questa transizione dall'architettura X86 all'architettura ARM e questo non è un dettaglio banale perché penso ad esempio ai software come le VPN pochissime sono compatibili sono scritte ad hoc per l'architettura ARM su Windows in questo momento un disastro anche per quanto riguarda i software musicali quindi chi lavora in ambito musicale oggi non può ancora puntare sui computer on ARM Windows on ARM come questo Lenovo ma come buona parte dei computer che arriveranno nei prossimi mesi sul mercato quindi Microsoft deve assolutamente correre con gli sviluppatori riuscire a mettere in piedi una strategia che consenta il più velocemente possibile di portare su Windows on ARM quanti più programmi scritti nativamente per questa architettura perché se questa operazione avverrà questa volta potremmo veramente trovarci di fronte a una svolta epocale per il computer Windows per il notebook Windows e badate bene siamo in una situazione molto diversa rispetto ai precedenti processori on Windows on ARM di Qualcomm io ho provato, ricordo, il Surface Pro X con un processore appunto Snapdragon per Windows on ARM è vero anche in quell'occasione c'erano dei programmi scritti nativamente per ARM erano pochi bisognava quasi sempre utilizzare l'emulatore quindi uno potrebbe dire che la situazione non è cambiata ma in realtà la situazione è cambiata perché intanto ci sono molti più programmi scritti ad hoc per l'architettura ARM di Windows ma soprattutto quel processore non era minimamente paragonabile allo Snapdragon X Elite che davvero ragazzi da un punto di vista della potenza pura della potenzialità fa davvero paura e qui tanto di cappello a Qualcomm perché davvero è stato fatto un lavoro egregio ma tanto di cappello anche a Microsoft che ha in qualche modo lavorato a braccetto con Qualcomm per poter raggiungere questo obiettivo adesso la palla passa lo ripeto a Microsoft e al lavoro che dovrà fare con gli sviluppatori anche da un punto di vista prettamente commerciale con una postilla importante e cioè che questo processore oltre a mostrare tanta potenza finalmente apre un barlume di speranza per avere un'autonomia decente importante anche sugli Ultrabook Windows perché anche qui quando lo utilizziamo soprattutto con i programmi scritti ad hoc per l'architettura ARM qui si riescono a raggiungere anche le 12-13 ore di utilizzo continuo e insomma questo è un aspetto da non sottovalutare finalmente lo ripeto si inizia a intravedere un barlume di speranza è chiaro che quando lo utilizziamo con applicazioni che non sono state pensate per l'architettura ARM abbiamo chiaramente un battery drain molto importante però anche qui finalmente si incomincia a intravedere qualcosa di importante insomma questa è la mia impressione sui PC Copilot Plus ad oggi e soprattutto su quello che è allo stato attuale il progetto Windows on ARM è chiaro che siamo solo all'inizio arriveranno tanti PC Copilot Plus nel corso dei prossimi mesi sono molto curioso di provare i nuovi Surface che peraltro ho visto esposti credo a MediaWorld se non ricordo male insomma ero curioso di toccarli dal vivo e devo dire mi hanno fatto una bellissima impressione soprattutto costruttiva però insomma la strada tracciata da Microsoft è chiara ma con questo video spero di aver chiarito un concetto importante è vero ci sono dei limiti è vero l'intelligenza artificiale generativa è ancora troppo acerba rispetto all'implementazione di Copilot in Windows 11 ma tutto questo non deve oscurare quello che è il lavoro fatto da Qualcomm da Microsoft con lo Snapdragon X Elite è quello che in qualche modo è la vigilia dal mio punto di vista finalmente il salto di qualità definitivo di Windows on ARM e sono molto molto ansioso di vedere cosa accadrà nei prossimi mesi in ogni caso fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate nei prossimi giorni vi porterò la recensione verticale sul Lenovo Yoga Slim 7X io sono sempre a vostra disposizione per confrontarci nel box dei commenti scrivete e commentate perché lo sapete che mi confronto sempre molto volentieri con voi io per oggi ho concluso e noi ci vediamo nei prossimi giorni ciao 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 ciao